Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di AM Giochi Fumetti. Oggi siamo qua perché andiamo ad aprire le nuovissime confezioni a tema con il nuovo film Pokémon che deve uscire, Detective Pikachu. Adesso apriremo una di queste, poi negli altri video che vedrete apriamo anche tutte le altre confezioni. E vi ricordo di mettere un bel mi piace al video e di seguire la nostra pagina. Ecco qua. E andiamo a vedere com'è questo fascicolo di Detective Pikachu che si apre così. E troviamo dentro due pacchetti, la carta promozionale, la moneta e una bustina di espansione. Adesso andiamo ad aprirla. Allora, vediamo qua come funziona. Andiamo a scelterlo. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Allora, abbiamo la moneta. Andiamo alla monetina. la carta del Detective Pikachu, che è esclusiva, la possiamo trovare solamente qui dentro. Eccola qui. Una bustina di Guardiani Nascenti e due bustine speciali proprio del film Detective Pikachu. Andiamo ad aprire intanto la bustina di Guardiani Nascenti. Ecco. E mi pare già di intravedere qualcosa. Vediamo, vediamo, vediamo cosa troviamo. Mi pare già di intravedere qualcosa. Eccola, oh, abbiamo trovato Wishy Washy Gix. Eccolo qua, molto interessante, molto molto figo. Direi una busta, una Gix, non è affatto male. La mettiamo qua. Adesso andiamo con queste due bustine e io vedo adesso con voi che cosa si sbusta qui dentro. Quindi, giriamo e vediamo cosa troviamo. Ovviamente troviamo gli artwork del film. Quindi vediamo se arriviamo a mettere a fuoco la carta. Ecco qua. Troviamo lo Psyduck. Il Magikarp. Charmander. Tutte o lo sono. E un'altra carta di Detective Pikachu. Eccole qua. Prima busta andata. Adesso vediamo la seconda. Bulbasaur. Likitung. Jigglypuff. E Slaking. Ecco qui. Quindi abbiamo visto che, oltre a trovare la busta normale, troviamo queste buste speciali. Con, diciamo, le grafiche del film. Le rivediamo velocemente. Jigglypuff. Likitung. Bulbasaur. Detective Pikachu. Charmander. Magikarp. E Psyduck. Questo è il... Il fascicolo di Detective Pikachu. Ve l'abbiamo appena presentato. E nel nostro canale, adesso, potete vedere che abbiamo già caricato tutti gli altri fascicoli. Un saluto da Aime Giochi i Fumetti. Ciao. Ciao, sono Alex. Grazie per aver seguito questo video. Adesso, qua a fianco, puoi vedere tutti i nostri link. Quindi ci puoi mettere like alla pagina YouTube. Puoi vedere gli ultimi nostri video. E poi ti ricordo che siamo anche su Facebook e su Instagram. Quindi metti like, metti like. Seguici, puoi anche mettere una recensione su Google. Perché siamo presenti anche su Google. E basta. Noi continueremo a caricare video ogni volta che escono delle cose nuove. E questo qua dietro è il nostro negozio fisico, un città commerciale cittafiera di Martignaco. Quindi se passi ti aspettiamo. Ciao.